Allora diciamo che io mi definisco un produttore tech house e quindi con quello che è successo con la traccia che è diventata virale Bustano Money e i canali che ha preso la canzone magari sono anche un pochino discostati certe volte da quello che poi è il mio focus a livello di profilazione diciamo quindi sì mi definisco un produttore DJ tech house e mi piace comunque introdurre vocali all'interno delle produzioni quindi non sono uno di quei produttori che è molto underground settoriale che dice no al vocal no perché sennò sono commerciale a me piace inserire vocali però appunto il tipo di perfilazione che vorrei è quella della corrente house tech house e quindi appunto la playlist che ti direi comunque comprende canzoni abbastanza underground che non tutti conoscerebbero ecco sì però sì quello è il mio genere di riferimento è la musica che voglio fare e però credo di poter portare una nuova nuova ondata all'interno di questo genere che comunque è più di nicchia ma io sento di poter apportare un qualcosa che riesca a prendere audience diversa infatti per me buscando money comunque rimane una traccia prodotta da me che per quanto mi riguarda aveva sonorità non così commerciali poi ovviamente per fortuna ha preso certi canali però comunque ho cercato di mantenere un primo dropping non ci fosse un vocale e un basso comunque abbia un groove ben definito swingato che comunque la potesse rendere adatta anche una dance floor più underground mi ha stupito più che altro il fatto che si esplosa dopo sette mesi perché la traccia l'abbiamo rilasciata a luglio del 2023 e poi esplosa a febbraio del 2024 quindi io credevo tanto nella traccia ovviamente non pensavo di poter arrivare a fare certi numeri perché comunque un successo del genere è impensabile no però comunque non lo senti così vicino la viralità per me è una cosa non c'è una formula per ricerca la viralità è semplicemente un qualcosa che deve funzionare molto e poi deve andare quindi mi ha stupito appunto il fatto che ora c'è così tanto ci sono così tante persone che si avvicinano alla mia musica non solo buscando money ma anche la resta della discografia ed è bellissimo diciamo che io sono di Savora ma comunque negli ultimi sei anni ho vissuto a Pavia la cosa buona di Pavia è stata il fatto che a me è sempre piaciuto anche organizzare feste e la cosa molto importante all'inizio del mio percorso come 26 è stato il fatto che io fin dall'inizio ho avuto la possibilità a Pavia di organizzare feste di questo genere quando la concorrenza era minima se non inesistente e quindi fin da subito io ogni weekend avevo la possibilità di avere contenuti in cui suonavo la mia musica in cui proponevo nuove tracce che magari stavano per uscire o semplicemente le facevo ascoltare le persone e quindi questo è stato molto importante per avere una crescita pur essendo emergente avere una crescita un po più rapida rispetto agli altri del settore e idem a Savona perché comunque analizzando poi anche il mercato sul Savonese abbiamo capito quando non ci fosse nulla e quindi poi siamo rientrati anche lì abbiamo fatto la prima stagione estiva l'anno scorso quella invernale quest'anno quindi ti dirò più che un limiter in realtà il fatto di essere all'ombra di magari città più grande è stato proprio io penso la mia fortuna perché siamo entrati in luoghi in cui non c'era nient'altro per quanto riguarda il tipo di prodotto che proponevamo e quindi abbiamo creato più affiliazione con la gente che frequentava gli eventi quindi anche solo che le persone che spingevano la cosa erano molto più affiatate rispetto magari a una persona che ti viene a sentire a Milano una volta ma poi non ti risente per tre mesi invece ci siamo inseriti in città più piccole come dicevi tu più all'ombra di altre ma penso che sia stato proprio il game changer alla fine circa dieci anni fa mio padre mi aveva regalato una piccola console con cui ho iniziato a suonare suoni chiare così in casa mia ma fin dall'inizio a suonare mi è sempre piaciuto anche proprio l'aspetto della produzione musicale quindi del produrre qualcosa di mio cercare di introdurre un qualcosa di diverso all'interno prendendo ispirazione da altre altre produzioni che mi piacevano e ho iniziato producendo più elettronica a livello di edm quindi un genere che era solo un po passato diciamo verso i 18 anni 19 ho iniziato a frequentare club più underground quindi a presenziare a serate più food house, tech house e mi sono innamorato della atmosfera che si ricreava quindi della connessione tra la dance floor e il dj del tipo di ambiente che si crea qualcosa di più io lo definisco elegante proprio con un tipo di connessione diversa quindi da lì ho virato su questo genere ho fatto circa due anni in cui ho prodotto e basta senza far uscire niente per sentirmi poi pronto e quando avevo circa dieci tracce pronte mi sono presentato al management con il quale lavoro tuttora e da lì abbiamo iniziato la nostra collaborazione ho avancato il progetto e è successo quello che stiamo vedendo. A livello di produttori penso che siamo molto forti nel senso ogni giorno su instagram mi imbatto in produttori magari per niente seguiti che però hanno qualità altissime hanno tracce validissime da far uscire e a livello di club mi sono sempre trovato bene anche in italia tipo la verità la maggior parte delle mie date l'ho sempre fatta in italia mi piace la dance floor in italia il modo in cui registrano le persone poi appunto come ti dicevo prima facendo un tipo di tech house che coinvolge anche una parte più vocale più friendly sono sempre riuscito ad accumulare i gusti di audience diverse quindi mi piace un po' sempre suonare in italia perché riesco appunto a capire un po' cosa vuole la gente dopo l'opportunità di suonare in sud america ti dico che il mio luogo preferito in cui suonare è diventato sud america perché in italia magari ti ritrovi ancora con le persone che vengono la serata giusto perché comunque è sabato sera vanno a ballare non sanno chi sta suonando nel locale però vanno per fare le bottiglie eccetera in sud america penso che il 90 per cento delle persone che sono sulla dance floor sanno che serata è chi è il brand di riferimento che è il dj che suona sanno le tracce si informano e sono più affiatati capito c'è proprio la consapevolezza della serata che si sta andando a fare l'interesse nel sentire diversi stili musicali quando in sud america c'è un dj internazionale si sente l'importanza dell'importanza dell'evento qua a volte ci sono persone che sono proprio disinteressate o comunque distaccate dalla cosa io semplicemente voglio lavorare sulle musica e farla piacere a più persone possibile in modo tale che quando suono io le persone devono essere interessate a venire all'evento questo è l'obiettivo finale quando la possibilità di suonare al di fuori da casa mia anche al di fuori dall'italia non sono un turista di quelli che vedi in giro a guardare le chiese o i monumenti io cerco sempre di andare in uno studio e mettermi a produrre musica quindi è successo che l'anno scorso suonavo dovevo avere una data a madrid e chiesi al promoter di appunto della possibilità di andare in uno studio a fare un po di musica e mi portarono in questo studio dove c'era anche tyson il cantante di buscandomani e dopo dieci minuti della presentazione stavamo già producendo lui aveva già registrato una parte della cappella della voce e abbiamo prodotto penso per dieci dodici ore senza bere senza mangiare senza fare altro proprio connessi tantissimo non mi è mai successo con nessun altro nel senso sono stato in tanti studi però la connessione che ho provato con tyson è stata proprio assurda perché lui un'altra persona come me lui anche produttore quindi ci capivamo ogni ogni modifica che volevamo fare la facciamo in un secondo quindi immaginate per dieci ore produrre questa intensità con questa connessione doveva per forza uscire qualcosa di perfetto la traccia è stata terminata marzo dell'anno scorso per poi uscire a luglio e poi la viralità è arrivata in realtà dopo un bel po di tempo perché fino a febbraio eravamo mi sembra più o meno intorno al mezzo milione di ascolti e da febbraio a maggio ne ha fatti 100 milioni per me è sempre un periodo fertile perché come ti dicevo prima la cosa che mi è sempre piaciuta di più è quella di produrre musica quindi ho già più di dieci canzoni che sono già pronte per essere mandate alle etichette in promozione agli altri dj continuo a suonarle e poi ovviamente anche l'elizia programmate venerdì prossimo c'è la mia prossima l'elizia su spinney records che si chiama bd bam in collaborazione con jean morrell che una cantante molto molto brava americana e ad agosto avrò un ep su una label un po più underground con un remix di stefano ferini che è un pilastro di questo genere e se stiamo lavorando per far uscire a settembre il la nuova traccia con il cantante di bustando money a livello di cantanti non sogno grandi collaborazioni perché mi imbatto con quello che mi è successo con bustando money mi imbatto spesso in cantanti molto emergenti oppure vocalist che mi mandano sample e quindi per il tipo di musica che voglio fare io non ho bisogno del cantante ultra famoso la collaborazione dei miei sogni ce l'avrei più che altro magari con artisti con dj produttori quindi ti posso dire michael bibi non so se l'ho mai sentito pausa blackchild e comunque artisti più dj che cantanti ecco per quanto riguarda le collaborazioni dei sogni io sarò in ecuador e quindi ho cinque date in ecuador poi farò la mia prima data ibiza a metà giugno parma poi abbiamo già confermato altre date in sudamerica quindi avremo colombia brasile uruguay messico e stiamo lavorando per gli stati uniti perché stiamo iniziando ad ottenere le prime richieste ma dobbiamo lavorare per i permessi e poi avrò corfu a ferragosto ibiza avrò più o meno sette date se non mi sbaglio tante in italia tante in spagna e lavoro più che posso cerco di fare più serate possibile di conoscere nuova gente più che posso creare nuove connessioni penso che in questo periodo sia fondamentale espandermi più più che posso riposarmi avrò tempo più avanti adesso non mi sembra assolutamente il momento di riposare ti direi lo space mayhem space mayhem è sicuramente uno degli obiettivi per il prossimo anno ok quindi un sogno però su cui stai lavorando non resta adesso stiamo iniziando a ricevere le prime richieste negli stati uniti è un processo non dico lento però comunque bisogna prendersi tempo per far cominciare tutto a livello legale con i permessi con la visa per poter presenziare e lavorare negli stati uniti e una volta che sia dentro comunque penso che con le mie capacità possono farmi notare tranquillamente e quindi tra gli obiettivi dell'anno prossimo inserirei sicuramente lo space mayhem e da qui a dieci anni dove ti vedi quello non saprei dirlo sinceramente perché talmente è una cosa che cresce costantemente che mi mette male a pensare a dieci anni perché guarda in tre mesi che è successo quindi non posso immaginare tre dieci anni magari sono presidente degli stati uniti tre dieci anni ma mai dire mai ci lasciamo stupire da no tre dieci anni sinceramente penso sicuramente essere a buon livello ma non saprei catalogare definirti bene dove potrei essere sono aperto a tutto sono aperto a mischiare qualsiasi tipo di genere a cambiare il mio approccio le cose quindi sono sicuramente che sono a buon livello